Che poi io non ho ancora capito come si chiama questo Il tizio che dobbiamo uccidere però ok Dettaglioni Nuquod come cazzo si chiama L'entrata è sul tetto Ma che gli hai preso? Che gli hai preso? Si è rotto i coglioni Ecco cosa è preso Comunque dentro Altair amico mio benvenuto A chi sei venuto a togliere la vita oggi? Si chiama A tu madre Oh il re dei mercanti di Damasco L'uomo più ricco della città Molto emozionante Molto pericoloso Ti invidio Altair Beh non la parte in cui sei stato percosso O privato del rango Ma invidio tutto il resto Oh tranne le cose terribili che gli altri assassini dicono di te Ma si a parte quel fallimento e il disprezzo degli altri Si a parte quelle cose Ti invidio veramente Se hai finito Ho le informazioni necessarie per svolgere il mio comito Lavori in fretta Dimmi che cosa hai appreso Abul Nukud è corrotto fino al Midollo E perciò la... Abul Nukud Pare abbia sottratto denaro destinato agli abitanti di Damasco E l'abbia speso per sé Ora ostenta la sua passione per il lusso preparando una grandiosa festa Guardie e servitori saranno troppo occupati con gli ospiti Non mi noteranno neppure Notevole amico mio Gli altri dicevano che non avresti scoperto nulla Ma io no No io ero sicuro che ce l'avresti fatta E ce l'hai fatta Rimani qui quanto ti aggrada finché non sarai pronto per cominciare Prendi la piuma e vai Avanzamento rapido un ricordo più recente Ma... vabbè... Vabbè... Devo andare qui Ok non so un cazzo di come funziona questa missione quindi... Speriamo bene Scusa E cosa ho fatto? Ok famo la guerra un'altra volta Altro templare fuori Dai c'è ancora più 5 Ovviamente non l'ammazza 4 3 2 1 Ma dai Ma altri Ma no Ma che cos'è? Ovviamente mica li ammazza lui no? Ma no E vaffanculo Cioè ma vi pare normale? Non è normale, non è normale Non è per niente normale Comunque La fontana a scalare è questa qui Eccolo Che ciccione Benvenuti, grazie a tutti voi Ok fallirò sicuro Ah il vino dalla fontana Bene bene Mi allieto a vedervi tutti così felici Già che questi sono tempi bui amici miei E dobbiamo godere di tutto questo Finché possiamo La guerra minaccia di consumarci tutti Salah Aldin combatte valorosamente per ciò in cui crede E voi l'avete sempre sostenuto senza domande È la vostra generosità che ha permesso la sua campagna di proseguire Propongo perciò un brand Di tagliare corto Che ci avete portato dove siamo oggi Che possiate ottenere tutto ciò che meritate Quanta cortesia Non vi credevo tanto garbati Voi così rapidi a giudicarmi E così crudeli Oh non fingete sorpresa Mi prendete per uno ciocco Ma ma che cazzo ha fatto un faccio? L'hanno stionato Ma sembra Tevez Ma non è per questo che vi ho convocato questa sera No Voglio parlarvi di questa guerra E del vostro ruolo in essa Regalate il vostro denaro in tutta fretta Pur sapendo che provoca migliaia di morti Avanti quanto vuoi eh Ho metto i piedi sulla scrivania come Paolo Borolis Oh, l'inclinazione malvagia del nemico Ma quelle che vi raccontate sono menzogne No, tutta questa sofferenza nasce dalla paura e dall'odio Vi infastidisce che siano diversi Come vi infastidisce che lo sia anche io Compassione, chietà, tolleranza Queste parole non significano nulla per voi E nemmeno per quegli invasori infedeli Che hanno razziato la nostra terra in cerca d'oro E di gloria Perciò io dico Mi sono votato a un'altra causa Che darà vita ad un nuovo mondo In cui tutti potranno vivere fianco a fianco In pace Peccato che nessuno di voi vivrà per vederlo Ne ho avvelenati tutti, lo sapevo Uccidete chiunque tenti di fuggire Un pollo elettrico Infedeli, preparati a morire Fermati, non riuscirei a trampare Fuori Buono Vai giù Ok, allora l'indizio della fontana non era male Perché adesso faccio così E ti vuoi un culo Ma sicuramente il bello arriva adesso Aspetta, dov'è che devo andare? Ok, fuori Ok, metà della strada l'ho fatta Oh merda Va bene, si fa un fuori, non è il problema Non l'ho detto, eh Ti taglierò la vita Eh sì, ci ho già provato una volta Adesso Cosa? Quando vieni scoperto dalle guardie Interrompila Non ho capito Ah Non dovevo essere scoperto da quelle guardie lì Ok Lui con quelle prima è andato tranquillissimo Beh, lo ti pigli da solo Allora Fuori uno Ok Metà del lavoro fatto Eccolo qui Vieni qui Vieni qui ciccione Ma non può corre così veloce Oh Riposate ora Le loro parole non possono più nuocermi Dimmi perché hai fatto questo Ok Avete rubato denaro Domandatelo L'avete destinato a qualche ignoto proposito Voglio sapere dove è finito e perché Guardami La mia stessa natura è un affronto alla gente che governavo E queste nobili vesti Riuscivano a malapena a soffocare le loro grida d'odio Dunque è una questione di vendetta No Non di vendetta Ma di coscienza Come potevo finanziare una guerra Al servizio dello stesso dio Che mi ritiene un abominio Se non servite la causa di Salah al-Din Allora quella di chi? Col tempo li conoscerai Credo anzi che tu l'abbia già fatto Ma perché nasconderci? E perché questi misfatti? Cosa ha di diverso dal tuo lavoro? Tu prendi la vita di uomini e donne Forte nella convinzione che la loro morte Migliorerà la sorte di coloro che rimangono Un male minore Del bene superiore Noi siamo simili No Non lo siamo affatto Ma te lo leggo negli occhi Il dubbio Voi non potete fermarci Avremo il nostro nuovo mondo E se ne va così Oh merda M'ero rilassato troppo Ne ho prese anche troppe Via 200 metri di felicità Cioè che poi l'assassino è andato anche bene Però Sono stato malamente scoperto Senza sapere che non dovevo essere scoperto E quindi giustamente Andrà tutto a puttane no? Non dovrebbe esserci più nessuno E lo sapevo Buttati Ok Finita anche questa Che palle però Non aver L'ho fatto la prima Però vabbè Il regno del terrore di Avun-Nukud è al termine Vieto di sentirlo Li ha uccisi Gli invitati alla sua festa Col veleno Uno strumento da codarti Li incolpava della guerra Diceva di volervi porre fine Strano D'altro canto il re dei mercanti era noto per essere un po' Eccentrico Forse era solo un sintomo della sua follia È possibile Non sembri convinto Parla con Al-Mualim Potrà darti una spiegazione migliore Sì Vedremo cosa ha da dire Avanzamento rapido Un ricordo più recente Torniamo ad Al-Mualim Perché non c'è più niente da fare qui Sì Usare le scale è un metodo socialmente accettabile Per raggiungere un tetto Arrampicarsi sugli edifici Ah Peccato che non portino Sulle torri Però vabbè Come desiderate È giunta voce del tuo successo Hai la mia gratitudine E quella del regno Liberare quelle città dai loro corrotti governanti Favorirà senza dubbio la causa della pace Come fate a esserne certo? I sistemi con i quali gli uomini governano Si riflettono sulla loro gente Mentre tu mondi le città dalla corruzione Guarisci i cuori e le menti di coloro che vi abitano I nostri nemici dissentirebbero Che vuoi dire? Ogni uomo che ho ucciso mi ha confessato strane cose E non provano rimorso Persino nella morte sembrano sicuri del loro successo Benché non lo ammettano direttamente E chissà perché C'è una differenza al Tair Tra ciò che ci viene detto essere vero E ciò che vediamo essere vero Molti uomini non si curano di tale distinzione È più facile così Ma in quanto assassino È nella tua natura osservare Interrogarsi Allora cos'è che lega quegli uomini? Ah ma La figa Eh no Perché può esistere vera pace senza ordine E l'ordine richiede autorità Parlate per enigmi maestro Mi elogiate per essere pespicace e poi mi chiedete di non esserlo Che devo fare? La domanda avrà risposta quando non avrai più bisogno di chiedere Suppongo che non mi abbiate convocato solo per una lezione Molto bene Ti vengono di nuovo restituiti un rango e un'arma Restano ancora due governanti Va E poni fini al loro dominio Dominio Cosa mi viene restituito? Stivali Per equilibrio E schivata Perizia con spada Va bene Perizia con spada Perizia con spada Perizia con spada